Io penso che davvero molti nella vita o sono invidiosi o sono frustrati o hanno davvero dei grossi problemi. Raga vi aspetto tra poco 21 un quarto in live sul mio canale. Perché dico questo? Perché hanno chiuso il canale del nonno, il 5 giugno lo chiudono e io mi dico allora può piacere o no il nonno, può stare simpatico, può fare incazzare, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Anche a me molte volte quando parla di Milan non lo guardo neanche perché mi fa incazzare da tifoso. Come però in molti non guarderanno me quando parlo di Inter perché li farò incazzare. Siamo tutti consapevoli che trattaci di spottò, ma segnalare un canale è da vigliacchi, è da infami, soprattutto se succede tra youtuber, ma anche se lo fate voi. Perché c'è una semplice cosa che ognuno di noi può fare. Non guardarlo. Se qualcuno odia il nonno, non guardi il nonno se qualcuno gli sta sul cazzo il benzinero. Non guardate il benzinero però segnalare. Cioè noi ci mettiamo del tempo. La passione, la passione per la nostra squadra, la passione di fare video. E cazzo di essere segnalato da gente a cui tira il culo. È fastidioso. È per quello che quando il nonno mi ha chiesto, dopo vi manderò il vostro, il suo spezzone di filmato, se dagli una mano io l'ho fatto con piacere. Perché queste cose vanno al di là della fede calcistica, al di là di tutto. Si parla comunque di rispetto per chi fa una cosa per intrattenervi, magari con spot tol, a volte sicuramente pesanti. Lo fa lui, lo faccio io, lo fanno in tanti youtuber. Però è sempre intrattenimento. Quindi mi è spiaciuto, gli ho dato una mano volentieri. Così come infami sono quelli che si comprano gli iscritti. O le visualizzazioni, perché magari vedono che nessuno li cago, perché magari vogliono raggiungere obiettivi che con i loro mezzi non riescono ad ottenere. Anche questo è da infami, perché è una concorrenza sleale tra di noi. Io non riesco a capire, io mi sono sempre detto che se un giorno dovesse arrivare al punto di comprarmi visual o iscritti, chiudo il canale. Vuol dire che sono davvero ridotto male. A me non interessa di raggiungere 20.000, 30.000, 50.000, 100.000. A me interessa di avere il mio pubblico, di divertirmi con voi, di sfotterci tra tifosi di avversari e di avere la mia crescita. E io sono contento di quello che ho. Quindi davvero non riesco a capirvi perché dovete fare queste cose. Ma poi soprattutto che soddisfazione vi dà comprare visual e iscritti. Cioè io se so che ho su 10.000, su 6.000, su 12.000 iscritti, in realtà ne ho 700, 1000, 1500. Sarei un povero uomo. Raga vi metto in onda il video che mi ha chiesto di mandare il nonno, sempre forza mila raga, ci vediamo in live, pollice in su e benzinero, iscrivetevi al canale. Allora ciao a tutti stelle, sono qui anche in questo canale di amici. Aiutatemi, il mio canale nonno bastardo interista verrà chiuso a giugno, il 5 giugno. Va bene, va bene stelle. Passiamo tutti in quell'altro, Black and Blues. Black and Blues, nonno bastardo interista. Così in quel canale sarà misto, ci sarà musica e anche i miei video sfottò. Quindi questi miei 12.400 amici che io non avrei mai immaginato di arrivarci, passiamo tutti in quell'altro canale. Ok stelle? Passiamo tutti lì. Black and Blues, nonno bastardo interista. Così lì si farà inter e musica e gli invidiosi dovranno schiattare ancora di più. Avanti. Grazie stelle. Black and Blues. Metto la stessa foto e lo stesso stimolo. Avanti, via. Ciao stelle.